Il teatro comunale di nuovo sotto la gestione della Solti fino al 30 giugno 2017 con affidamento diretto. Lo ha deciso la giunta comunale dopo che la società Solti, che si era giudicata all'appalto e che poi era stata rimossa in seguito al nuovo bando e al pronunciamento del Tar, voleva chiedere i danni al comune per i lavori fatti all'interno dello stabile. La settimana scorsa è stata bandita la gara per l'affidamento per sei anni, così come il Tar ci aveva indicato, quindi nel rispetto anche dell'ordinanza del Tar. Nell'emore di questo, essendoci una richiesta di riconoscimento di alcune attività fatte dalla Solti, mi riferisco ad alcune spese fatte sulla struttura, è stata come ipotesi transattiva trovata una soluzione per cui la Solti gestirà il cineteatro nelle more della gara e comunque fino a giugno. Perché fino a giugno? Perché giugno è il termine di tutte le attività e considerando che i tempi della gara non sono ovviamente certi, come succede un po' in tutte le gare. In questo modo si va a chiudere qualsiasi ipotesi di contenzioso che ci poteva essere tra comune e la Solti per quello che è accaduto e nello stesso tempo, cosa altrettanto importante, si garantisce il servizio del cineteatro, che è importante perché terra ma solo il cineteatro comunale. Il calendario prevede tutta una serie di attività, comprese le varie stagioni della Riccitelli, ma non solo. L'amministrazione ha ritenuto opportuno trovare una soluzione affinché il cineteatro resti aperto.